Che cosa è stata per me la Sampdoria? È stato un momento bellissimo, il più bel momento della mia carriera probabilmente anche il momento in cui sono arrivato qua era quello della piena maturità sia per me che anche per la squadra che avevo, i compagni che avevo il ricordo è bellissimo, è bellissimo, ho giocato con giocatori straordinari dei ragazzi soprattutto splendidi e ho proprio, quando penso alla Sampdoria penso come una grande famiglia perché così è stato, è stato quando eravamo in questo stadio quando c'era l'affetto della gente, quando eravamo a Bogliasco che eravamo ovattati dentro del nostro centro sportivo e ancora oggi a distanza di anni, quando penso alla mia carriera di calciatore mi immagino sempre con questa maglia, con questa maglia particolare che non piace a tutti ma che è unica, che nessuno, che hanno provato ad imitare ma nessuno mai ha fatto uguale e sono veramente felice sono stati dei bei momenti, soprattutto certo di calcio però di amicizia con i ragazzi e le persone che ho incontrato